fratelli sorelle pace del signore buona giornata a tutti lunedì 28 settembre sono le sette del mattino siamo insieme insieme per leggere e meditare la parola del signore questa mattina ci soffermeremo sui primi undici versi del capitolo 2 dell'epistola ai filippesi un passo un brano dove cristo viene presentato quale esempio di umiltà in effetti di lui viene detto che spogliò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce e questo esempio che cristo ci ha dato l'esempio che paolo dà ai credenti come modello di vita da seguire e questo permetterà di poter essere pronti a fare ciò che paolo chiede cioè a non agire per spirito di parte o per vanagloria ma a stimare gli altri addirittura superiori a se stessi senza cercare il proprio interesse ma cercando l'interesse anche degli altri partiamo dall'esempio di cristo in questo brano è evidente che gesù è presentato come dio e come uomo come dio perché appunto egli ha la forma di dio è uguale a dio ma poi decide di prendere un corpo di carne e quindi di divenire uomo uomo esteriormente perché la sua essenza quella divina rimane questo mistero quello relativo all'incarnazione di dio nella persona di cristo gesù è qualcosa che oggi possiamo in parte comprendere e che appieno riusciremo a comprendere soltanto un giorno ma quello in cui noi crediamo è che cristo è stato vero uomo ed è vero dio benedetto in eterno egli dunque spogliò se stesso della sua gloria questo lo fece non per un utile personale ma per l'utile dell'umanità lasciando la gloria prendendo un corpo di carne accettando di sacrificare la sua vita sulla croce egli ha dato la possibilità ad ogni uomo ad ogni donna ad ogni peccatore di poter avere l'opportunità di essere salvato redento riscattato il passo dio lo ha fatto ora tocca all'uomo ognuno di noi accettare l'invito del signore accettare questo sacrificio nella propria vita accettarlo come unico mezzo di riscatto dell'anima propria e noi siamo grati a dio per questo perché altrimenti non avremmo avuto nessuna speranza di vita eterna perché non c'è nessun giusto sulla faccia di questa terra non c'è neppure uno che possa soddisfare la sete di giustizia di dio solo gesù è stato in grado di farlo e solo in lui e per lui noi possiamo avere accesso alla vita eterna ora se cristo che il figlio di dio una delle tre persone della trinità è stato pronto a fare questo quanto più noi dobbiamo essere pronti ad imitare questo esempio e allora dovrebbe venire naturale se il nostro sguardo fosse sempre concentrato su cristo sulla croce sul suo sacrificio sul suo esempio dovrebbe venire naturale essere umili essere mansueti come cristo lo è stato il problema è che così non avviene questo perché spesso distogliamo lo sguardo dalla croce perché spesso dimentichiamo l'esempio di cristo perché in molte occasioni diamo spazio ai nostri istinti e di conseguenza falliamo in quella che è la richiesta di dio allora questa mattina vogliamo prendere un impegno con noi stessi e col signore l'impegno è quello di mettere da parte la nostra carnalità per dare spazio all'ubbidienza verso la parola di dio ubbidienza che ci porterà ad essere come abbiamo letto quindi umili cioè a riconoscere la nostra fragilità il nostro bisogno di dio il nostro bisogno che abbiamo dell'altro e umiltà che ci porterà di conseguenza ad essere collaboratori insieme all'altro agli altri per il raggiungimento dell'unico scopo che dio dà alla sua creatura e la sua chiesa quella della propagazione dell'evangelo sulla faccia della terra sì perché per collaborare ci vuole umiltà bisogna essere pronti delle volte ad accettare i consigli e le riprensioni del fratello della sorella del pastore o dell'evangelista del monitore o della monitrice bisogna essere umili e dio ci dia grazie di esserlo e di accettare ogni consiglio e anche ogni rimprovero che con amore ci viene fatto allo scopo di correggere i nostri comportamenti sbagliati essere umili quindi è necessario per collaborare essere umili perché significa anche rinunciare all'idea secondo la quale possiamo fare tutti da solo e dio ci dia grazia di realizzare questo nessuno di noi è autosufficiente abbiamo bisogno l'uno dell'altro l'apostolo paolo infatti in un brano famosissimo della prima corinzi paragonerà la chiesa un corpo e dirà che ogni parte del corpo quindi ogni credente è necessario ma non autosufficiente e di conseguenza ogni parte del corpo ha bisogno dell'altra parte del corpo e noi vogliamo con tutto il cuore ringraziare dio per la chiesa ringraziare dio per i fratelli e le sorelle che ci ha donato ringraziare dio per la comunità dove viviamo e chiedere a dio la forza di collaborare con i fratelli e con le sorelle in modo da essere utili al progresso del regno di dio quindi è necessario è necessario seguire l'esempio di cristo è necessario collaborare con umiltà per il progresso dell'evangelo è necessario che tutto questo sia fatto non ricercando il proprio interesse ma ricercando quello che l'interesse anche degli altri e soprattutto quello che l'interesse di cristo gesù e del suo regno oggi le persone sono molto egoisti egocentriche è un adempimento di ciò che è scritto nella parola di dio cioè che negli ultimi tempi gli uomini avrebbero avuto proprio queste caratteristiche si fa qualcosa non perché sia si sia animati in molti casi da sentimenti di amore di compassione o di misericordia ma solo perché sia un tornaconto aiuto quel tale però lo faccio in quanto poi potrò ricevere anche io qualcosa in contraccambio l'amore ci spinge ad agire in modo diverso l'amore ci spinge ad aiutare il prossimo senza aspettarci di ricevere il contraccambio del prossimo addirittura gesù dice che quando invitiamo qualcuno o a casa nostra per un pranzo per una cena dovremmo invitare coloro di cui siamo certi che non ci potranno dare il contraccambio questo è il vero amore e nella chiesa avviene così noi non agiamo perché speriamo di poter ricevere il contraccambio dalla fratellanza o dal pastore o da qualche altro agiamo perché amiamo il signore e in vista del progresso del suo regno siamo pronti a dare tutto noi stessi perché abbiamo capito che prima viene il regno di dio e la sua giustizia e poi ogni altra cosa oggi vogliamo dire signore grazie per quello che tu hai fatto per noi sulla croce grazie per l'esempio che tu ci hai lasciato durante la tua vita e di cui noi abbiamo conoscenza mediante l'evangelo ma signora aiutaci a seguire quell'esempio ad essere umili mansueti ad amarci l'uno con l'altro a servirti di comune accordo e ad essere collaboratori per il progresso del tuo regno che la pace di dio la sua grazia e la mia sua misericordia sia con tutti quanti noi anche in questo nuovo giorno dio ci benedica